Ti devi iscrivere Mamma mia bro Mamma mia Mamma mia Mamma mia Bro io un giorno imparerò a cucinare Io devo Essere bravo a cucinare Ione vince a livello 1 C'è anche ignite eh Quindi giochiamo safe level 1 Non perdiamo il focus Ma ok patta bot Non trolliamo Io imparerò a cucinare bro 100% Oh but is pushing Sei arrabbiato Ione Non mi conviene prendere nessun trade aggressivo qua raga Italia potrebbe anche early cancare Quindi non ne vale proprio la pena Gioco sul bounce back Tranquillo Bro io devo imparare a cucinare I swear Credo che lavorare in cucina sia terribile Ma imparare a cucinare in generale È wow Tipo una skill che tutti dovrebbero avere To be honest Fino a un certo punto almeno Però tipo È un Ti migliora la qualità della vita In maniera allucinante Sai per cucinare Anche perché Se sei good poi Non ti prende manco così tanto tempo Cioè Sì Ma Tipo On average Mangi meglio Cucinandoti bene Non so se avete capito cosa intendo Non ha la E Io voglio giocare sulla web ragazzi Non vedo da lì Quindi Evito di prendere trades Di cui potrei pentirmi E qua vi ho fatto il pezzo ragazzi E qua vi ho fatto il pezzo E qua vi ho fatto il pezzo Tuttavia patta top And Wix I dirale Gets the kill And gets out My god Wix I dirale Does it again Pianificazione 100% success Esecuzione 100% success Crazy Se non avesse trollato Non avrei nemmeno Fatto il trade Aver crashato la web Me ne sarei andato In pace Qua gli ho fatto il pezzo bro Eh si 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 Ma infatti bro Io cucinare è la prima cosa Che devo imparare a fare Appena vado a vivere da solo Con una casa mia Padove Scona sarà a 25 anni Sarà a 26 Come Sarò fortunato come Fieric Da permettermi in casa mia A 25 anni Who knows Non lo sapremo mai ragazzi Ma quando succederà Perché prima o poi succederà Prima skill da fare E cucinare ragazzi 100% Questi due anni Di pollo Piadina Insalata Finiranno Maybe Non fra due anni Maybe diventeranno cinque Ma It's gonna happen Ovunque Eh Ho fatto la meccanica Quella del La wave Non conviene Guarda Guarda Sono bravo Ho chiamato anche No Il jungler E adesso Slow stack La meccanica di reglia Che vi ho fatto vedere prima Ragazzi È il charge Della W Se flash Dopo aver usato la W Puoi direzionare Il danno Della W dove vuoi E Semplicemente L'ho usato Per avvicinarmi E poter tirare L'auto Alla fine Quindi non è una meccanica Da poco Anzi Le piadine sono buone Non quando le mangi Da due anni Ma non è tanto le piadine È il pollo bro Io il pollo Me lo cucino semplicemente Lo metto sulla padella Con un po' d'olio E cuoce Capito E lo mangio così Cioè io mangio per Per i games Per utilità Stessa roba le uova Le metto sulla padella Cuociono E basta Le metto nella piadina O l'insalata E basta Io mangio così ora Ma sti cazzi bro Devi decidere tu Puoi imparare a cucinare Quando vuoi Ti devi prendere E fare pratica bro Come tutte le robe Certe robe te le fanno sembrare Più hard del previsto Tipo bro Cucinare Possono imparare tutti Non tutti possono essere Chef stellati I guess Perché serve Che creatività E altre robe Ma Esperienze culinarie Piuttosto più che altro Ma Saper cucinare Lo possono fare tutti bro Imo Serve solo pratica E Informarsi un pochino Un po' di conoscenza Talia sarà top Adesso Penso che un dive Qua lo provo a PA Perché vediamo Talia Ok no Ho missato la cosa We just get Free reset qua Pickax Proverà a stopparmi Con la E credo Se è smart Invece no Just back off Taglia patta Comunque top Sera adesso Quindi tipo Quindi si Quindi si E' figa Sta roba Siamo un po' Indietro in farm Ma perché Ione sta giocando Molto aggressivo Io sto rispettando Una volta che Il Mordekaiser patta Verso una lane Io sono stack In weak side Per tutta la durata Della lane Basically Qui cerchiamo Qui cerchiamo di fare Uno shenanigans Sulla wave Vi faccio vedere Sta mossa Ci aggramo Questa wave E ce la facciamo Pushare Verso di noi Perché adesso Aggreranno tutti Un singolo million Probably In teoria Uno morirà prima Never mind Ho trollato Maybe Oh well Twitch miss E taglia pure I feel like I'm really in danger Qua Oh no No Ho trollato Ok Mi ha Mi ha Completamente Stunnato L'Oione Cioè Qui Qui il mio cervello Si è Si è spento Non ho Non ho capito Che cosa Diamine è successo Perché mi ha Ingaggiato Non vinceva Mai Tipo What's going on Mi sento tipo Il video Breakfast What is going on Here Breakfast Il cervello Spento Afgh No La mia Q Cancela Perché C'è pure Alistar Top Bro Why Ma come faccio A preditta Pure questo What is this Rotation Please Drake Please Drake Please Drake No Come faccio A preditta Anche questo Ma come è Possibile Che devo Rispettare Twitch Italia Alistar A rotazione Non posso Mai giocare Agro In sta Land Ho Ho giocato 9 minuti Quasi Pixel Perfect E poi Sono successe Ste robe Allucinanti Bro Yone Che mi Ingaggia Quando sta Giocando Safe For No Reason Perché Miss La E Non lo Vince Mai Quello Lean Mio cervello È esploso Esploso Vabbè Chill Riprendiamo ordine Italia Adesso Patterà Top E quindi Altri Due Minuti Di Weak Side Perché Mordgeiser Ha fatto Top To Bot Piuttosto Che Drake Into Top Invece Adesso Siamo Senza Flash E Miss Pure Twitch Siamo Morti E Non sto Scherzando Non è Essere Tossi Siamo Morti Qua Ecco Twitch Ai 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 I just wanted to play strong side One game Twitch è ancora là Bro Io lo diveo No Not Again Splitting Mort Mort As fuck Mi Push Shine Prendola Boder Super World Bro Ma io volevo solo giocare Un counter matchup Ma non è vero Non è vero Ai 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 Bella Raygarm Quanto conto imparare a gestire le wave Quando si inizia a giocare Un cazzo all'inizio bro Però una minima conoscenza dovresti averla Ti aiuta tanto a renderti game più stabili Più degni di essere giocati Mettila così Brevemente Più degni di essere giocati Allora qua andare tank contro tutta sta gente fa cagare Andare gore drinker fa cagare Andremo per shield bow e cercheremo di ammazzare la gente fast Ma ti sei tolto l'eye di mordgeyser Cagli in testa Io non ho paura Ione Ma la tanko tutta sta cazzo di toro È stupido Pure una pink le hanno messo là dietro Oh no Tagliere è spawnata Back to top Che game Frettoloso questo Ma lo prendo un altro play thing brother All in posso farlo? Oh tagli ha fatto in top again Oh no Lo legniamo adesso Vai tagli ha ulti Ah no Stiamo giocando molto molto bene ragazzi Nonostante il babysit e tutto eh Anzi Ha maggior ragione Mi darebbe veramente fastidio perdere questa partita Prendiamo questo ultimo play thing Magari ci creiamo shield bow Con prossima wave pure Affinché we look to kill Ione One more time actually Non dovrebbero essere top side ora Sì Griddo per un'altra kill bro Quasi mi chiedo shield bow Tutto in una botta Nice Rokan Potrebbe andare Midion Nice We look to dive him eh Getting closer E' qui eh No bro Quello è ammissato Vabbè almeno il cringe bow Sono morto solo da persone che non si entrano nulla con Ione In questo cazzo di game Però si è preso un huge shutdown Peccato qua Più la bounty Qua è un peccato Incredibile Incredibile Let me match him Fucking Alistar from top lane Vai tu bot Sei gran master Sì No 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 Se sta da di Alistar non ci fai niente Pusho la prossima Mi muovo Che altro becco e vado verso il drag Talia verrà top perché abbiamo perso Twitch Cioè hanno preso Twitch e quindi Cercheranno un cross map su di me And we already know The way they are playing Quindi andiamo back Top a difendere Magichiamo save Lui c'ha lo shield bow As well 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 Vediamo E playable Diana top o mid Diana top la giocavo in Tullucia non GP Non lo so Non è comunque forte Playable e playable Forte è dubito in realtà Adesso unintentionally abbiamo scoperto il pick segretos I wanna fight this guy Ho 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 Yo guys Why not Ehi Bortuflex Bortuflex Andiamo tabby Non mi piace andare tabby Ma andremo tabby Ora che le hanno anche buffate Arrivano verso di me Guarda guarda Sprinting Alistar Andiamo a frozen heart qua Ah no Ah no Magic damage Andiamo così Ok Ione fa pure magic damage Ione shitting on top Andiamo bot Andiamo bot Andiamo bot Fighting Bro stavo guardando la serie che potenzialmente poteva essere la mia preferita ever Tipo physical da 100 a 1 Bro con la coreana fa cacare Mettiamo la prova a tutti i fisici Però non vi potete menare Ehm Dovete prendervi la palla Bro Cringe Cringe Che cazzo di serie è? Blue lock No non sto guardando anime bro Ho solo finito di vedere OT anche anime Lo rivedrei altre 4 volte Quanto cazzo mi piace a OT Mamma mia Penso che mi ha lottato Ho mitato il gigante colossale sul cazzo Così mi sembra un po' più grosso Questa non l'avevo pensata Mi è uscito ora È actually crazy Guarda la fine alla fine Oh Talia OT perfetto Fino alla stagione 3 Non capito un cazzo OT perfetto Fine Per leggere a te ho perso questo blue buff Non solo ai gusti di merda OT perfetto Punto bro È un tatuaggio Non è un miracolo Eh la marcia pure a me non è piaciuta troppo Però non è Non Cioè È comunque È solo meno bella del resto Secondo me È solo meno bella del resto Anche a me la marcia è stata un po' Se ho fatto spoiler raga OT è già uscito Quello che ho detto è Common knowledge da più di un anno Quindi È come dirvi che in endgame Thanos muore Capito Cazzi vostri Spoiler No comunque Sai cosa è stato veramente una delusione Per me No Thanos muore Talia Ehi È Gaetanos Allora dicevo Sai cos'è non è bello? Game of Thrones Fucking Gaetanos Game of Thrones bro Delusione Tipo L'ultima stagione Terrificante bro Era Era La mia Serie preferita E poi l'hanno rovinata Esatto Esatto Bro perché prendo meno 27 Più 25 Questo game me lo meritavo Più di qualsiasi altra cosa Più di qualsiasi altra cosa